qui, qui no, si può cagare così, no, ti tieni, questo canale è pro donne, pro donne, cosa gaming, cosa c'è il game screen, foto male, buongiorno, buongiorno, tanto voglio ricordare che non bisogna avere l'otto marzo per voler bene alle donne, non serve l'otto marzo, bisogna volerli bene sempre come faccio io, sempre, sono gli uomini che sono un casino, quindi facciamo così, per ogni donazione o sub fatta a me, le donne se la passeranno meglio nel mondo, solo per oggi, tanto devo ringraziare Bruno che si è fatto la sub prima che partisse col pre-live, l'ho ringraziato in chat, ma mi sa che non mi ha mica letto, fammi vedere se c'è ancora chat di, sì, ma non c'era, non c'era, ha detto, si è resubbato per 4 mesi e sono 4, grazie per tutte le... e sono 4, grazie per tutte le risate che ci regala soprattutto in questo periodo di malattia, mi scuso, per un essere attivo, le si vuole bene, grazie mille Bruno, grazie mille, si riposi, si riposi, allora fatta, assolutamente sì, buon bronzo, e Marco invece, 9 mesi, buongiorno, tante augurie a tutte le donne e anche a noi sorgati, inauguriamo questa sua novella promessa per le donne, oggi fare gli auguri alle donne come fare l'ebreggio o non della memoria, insomma, non credo sia la stessa cosa, anzi credo sia proprio una cazzata quello che hai scritto, però, ci hai provato, sono contento per te e farla con un uovo solo, Percy il pane, dici Michael ciao nerdaggi vedi, lui è educato, dice ciao mi sto un attimo perdendo ma non è così, Jun Chin, non funziona così, l'8 marzo le donne che sono morte, il giorno della donna non è come il giorno della memoria, non li puoi mettere sullo stesso piano in alcun modo, per cortesia, assolutamente, il giorno della memoria è un'altra questione è una celebrazione sì, infatti, Gabby, non ce la fa più, vado a uccidermi, e poi diventerà il giorno della memoria del gatto grazie a Natrium, sono sete, questa sarà una bella live secondo me, auguri a tutte le donne, grazie mille ah sì, mi ricordo posto, fatto sento tutti i rumori del sospetto grazie Ted, anche tu, veramente non ce la si fa stamattina, non ce la si fa non si riesce proprio ad avere una discussione non so, siete diventati tutti stupidi non so, non so più boh 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 siamo in live, anche quest'oggi è subnautica mi berrò un caffè, se arrivi in live entro un minuto se no, l'ho già bevuto bene, queste sono le storie Instagram che attirano la gente qui c'è gente che balla la madonna credo che ci sia San Patrizio tra poco non so sicuro c'è bisogno? perché uno dovrebbe scrollare per due ore Instagram intanto seguo cinque persone oh, e ho finito di seguirli tutti 17 marzo, grazie Notorious grazie mille per l'info infatti come diceva Isa oggi si festeggia il diritto della donna mica i semi sì che comunque per come la vedo io non ci dovrebbe essere bisogno poi questa è un'altra questione esattamente come non ci dovrebbe essere bisogno del gay pride esattamente come non ci dovrebbe essere bisogno di tutte quelle manifestazioni incredibili per determinare cosa sei o cosa non sei secondo me non ce n'è bisogno poi vabbè, è una cosa mia siamo tutti uguali, punto non ci dovrebbe essere bisogno di farle tutte queste cose qui però ci sono tradizione e allora tanti auguri facciamo sesso no, ma chiaro Isa ma infatti io ti stavo dicendo una mia gatto per il sociale ma vabbè sono cose che ripeto dal day one di sempre sempre e vedi libeggio secondo me non dovresti essere un femminista convinto non ci dovrebbero essere bisogno delle femministe dei femministi non ci dovrebbe essere bisogno secondo me non dovrebbe servire una cosa del genere non tutti i apprezzano come te se tu siamo tutti uguali certo ma infatti infatti io ti sto dicendo la mia non sono il capo di niente e quindi tu puoi fare il caso ti svelo un segreto se io dico vive i cinesi a basso i giapponesi a te non te ne dovrebbe fregare un cazzo sono dispiaciuto barba fiamma quindi nessuno ti fa gli auguri pensa neanch'io vabbè io bevo il caffè l'avevo promesso ah che bello la cosa bella è che adesso come potrete vedere dov'è qua il tasto qui oh e dai porca miseria eccomi qua ecco questo non lo potevo fare allora dove sono le mie merda di cuffie eccole qui oggi subnautichiamo perché perché sabato non ci sono allora andiamo un po' avanti in questi tre giorni che in tre live faremo una live di un giorno solo tra l'altro voi sapete quanto mi piace fare le puttanate quindi oggi è il giorno della donna dovrebbe fare tutto nel rispetto più caro della donna e ho comprato un gioco che assolutamente non c'entra nulla con tutto ciò ma ne riparliamo questa sera in live eh ma la parità di diritti di Beggio secondo me ci dovrebbe essere punto non ci dovrebbe essere bisogno di un movimento come quello del femminismo o comunque della gente che dice queste donne devono avere i nostri non ci deve non deve succedere non deve servire quello sto dicendo io grazie a Dante Ali Gamer bel nome bel nome complimenti bel nome anche secondo me claim blitz neanche il femminicidio dovrebbero utilizzare allora qui eravamo rimasti con un bel twist porca sta voglia vabbè eravamo rimasti con un bel twist sopra di me c'è un timer e un obiettivo da raggiungere dentro quel timer mi recupererò un po' di cibo e dopo andiamo al rendezvous pre-steam come mai Gabriel cosa c'è su steam di ficcante allora del pesce e del sale mi servirà perché così me li porto via per un pochino qui c'è il rame buono sempre piacente il rame avevo visto del sale qua sono cieco no ero sicurissimo ah l'ho raccolto no dai oh l'avevo avevo visto qua del sale giuro no ragazzi sto impazzendo era qui ho bisogno d'aiuto sono veramente fuori di testa ragazzi come c'è qui una palla da bullying cos'è uh buono buonissimo buona 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 questa qui ce la facciamo ah radiofaro buono anche questo anche radiofaro è molto utile no vabbè se non l'avete visto anche voi vuol dire che sto veramente impazzendo mi dispiace ci posso fare poco mi ammazzo si può ottenere dei pesci no 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 c'è proprio c'è un blocco di sale ma l'ho visto ti giuro l'ho visto evidentemente non l'ho visto cosa c'era in quel caffè del sale probabilmente per quello che lo vedo ecco ne qua un pochino sale sale non fa male sale sale abbiamo dell'acqua no quindi dobbiamo recuperare pure della uova oh cazzo un dente di stalker fan culo quando mi capita non ne lasciavano così tanti ai miei tempi sale quarzo non volevo usare troppo di questo ecco su la batteris c'è questi pesci qui le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi sai senti che voce da sonno dovrei tornare a letto sai ho fatto la rima con la stessa parola sono diventato un rapper italiano vado vado a vancouver no dai me ne prendo un altro di sac a poche qui questi non mi danno un cazzo di acqua da bere eccolo preso questo qui che è gigante no grazie con i puccio grazie grazie stronzo lui ma dai ho già preso un sacco di batteria difficilissimi da uccidere questi affari ok posso raccogliere no e come funziona questo pesce non è morto del tutto no aia non ho capito grazie a leba come con cosa sto giocando in questo momento a parte ho fatto wiki che c'è scritto nel titolo della live comunque sto giocando subnautica cazzo è vero questa qui è roba da follia batteria carica questa è scarica questa è scarica ok mi hanno inviato la cosa del pda questo qui lo tengo che ho paura di perdere ok quindi lì c'è il rendezvous qui c'è capsula oddio qual'era ah no la 13 perfetto faremo ho ammazzato un pesce innocente per niente ma io che ne sapevo sai che quasi quasi me la faccio qui la trappola gravitazionale però me la faccio dopo che ho con le batterie scariche cibo trattato me lo faccio scusa perché sono tutto sbiego qui acqua vai alaba perdonami ho letto una e ma è tutto ma ne sono due giorni che leggo e per a ti giuro perdonami mi perdoni mi perdoni non era mia intenzione offenderla no quello avrei dovuto trattarlo niente ormai è andato ma sai cosa ti dico che pesce cotto me lo mangio lo sbircione cotto l'altro sbircione cotto me lo mangio questo è trattato me lo tengo l'acqua me la ciuccio e aspetta e con la mi faccio con questo è che si faceva il cloro no si è che tu sbagli a scrivere paffina ma nessuno ti dice un cazzo però bo controllo qui se magari è cresciuto qualcosa ne dubito visto che abbiamo giocato quanto 9 minuti prometti che è cresciuto qualcosa mi mangio cazzo è cresciuto tantissimo l'albero la patata cinese eh ho capito io non posso se ripianto questa cosa qui è finita ma la roba che c'ho ma porca miseria che figura ok piccolo promemoria non piantare mai più piante cinesi che sennò ti si fotte l'inventario eh mettiamo mettiamo un paio qui cazzo piante cinesi e il timer mi dice che tra 29 minuti non so se siano 29 minuti effettivi effettivamente perché stanno andando giù più velocemente del normale e arriva qualcosa comunque noi andiamo fino a lì andiamo a vedere marcisce il cibo se lo raccogli sì 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 lo so ma tanto ho trattato il pesce quindi va bene così sono effettivi però non so quanto mi ci vuole fare mille un chilometro non tantissimo da quel che vedo vabbè arriviamo fino a lì non è meglio andare alla capsula no vado fino a lì a vedere se magari c'è anche dell'altro materiale giusto una scusa per il viaggio poi vediamo grazie a Dabisal Balasar tanto andando cerco anche in giro se c'è roba cose così esatto l'ho trovata roba yes 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 una taglierina laser l'avevamo poi fatta no perché mi serviva il diamante vero capito però qui c'è il punto di penetrazione sì c'è questo ma che palle che paura respira poi il vero niente niente e comunque ci andiamo un po' più notando cos'è? piattaforma mobile per veicoli questa dovremmo già avere la propria sicurezza l'avevamo già non so cos'è solo rottami va bene la comunità di avere un telefono waterproof e che la seguo anche in doccia e Sirius non dovresti sai o almeno l'Apple mi ha fatto venire l'ansia l'iPhone non è waterproof l'hanno detto più volte poi non so che telefono hai tu perché in realtà era un discorso in generale mio cioè l'iPhone e ho detto che si resiste agli schizzi resiste per mezz'ora sotto un metro d'acqua però nel caso ci sia acqua saponata acqua troppo calda acqua troppo fredda cazzo ma c'è un'isola qui beh meglio ancora va a perdere tutte le sue proprietà va a perdere tutte le sue proprietà di waterproof aggine e allora visto che waterproof aggine non è waterproof però cioè perché waterproof vuol dire che proprio può andare sott'acqua può andare sott'acqua cazzo va bene devo arrivare sull'isola meglio ancora me la visito per benino water resistant bravissimo bravissimo va bene signorina vabbè c'è andata bene albero bulbo oh che palle questi animali di merda e quindi niente non l'ho anche se è water resistant non l'ho mai più fatto bagnare io c'ho paura stessa cosa l'apple watch no l'apple watch in realtà è veramente waterproof però c'è scritto che non lo dovresti usare in doccia razza del cielo non lo dovresti usare in doccia eccolo qua che figo questo animale scisto fammelo analizzarlo scisto piombo oro litio diamante scusa cos'è mirato il litio allora sembrava piombo vaffanculo mi ero ingrifato per un attimo vedi qua si va o non si va il mio vecchio iphone era resistente non ho letto ho perso dai stavo leggendo il mio vecchio iphone era resistente non l'ho più visto poi niente non garantisce per nulla l'acqua salata saponata o ricarico oro cloro per esempio panda se mi cade in piscina è un problema perché ad esempio ho l'apple watch quello lì che può andare in piscina non l'ho comprato per quello perché come vedete non sono uno che va in piscina ma mi piacerebbe riprendere ad andare in piscina lo ammetto a nuotare perché mi farebbe bene infatti mi ero ripromesso di tornare in una palestra con piscina ma ancora non è successo quindi non succederà mai cos'è questa cosa qui ma che cazzo guarda te dov'è infame aaa è vero questa qui è l'altra isola dove bisognava piazzare il coso se c'è la tavoletta ma qui c'è già una tavoletta no non è vero vabbè l'abbiamo lasciata a casa la tavoletta a saperlo me la sarei portata però lasciata sì vabbè e niente che dobbiamo fare intanto andiamo scatti però salviamo andiamo su per di qui comunque ma se vado in piscina mi si fotte l'apple watch in teoria tra colore sane non so quale sia il peggior e ho capito ma loro l'hanno fatto apposto c'è anche l'allenamento da piscina tu ti puoi puoi nuotare e lui ti rileva quanto hai nuotato come hai nuotato e quanto quanto hai consumato nuotando in piscina eh sì c'è un editore in barbafiamma però mi sta scattando a merda inizio a preoccuparmi cosa ha fatto che non ho una torcia e questo è un problema mio però passiamo da sotto perché tanto se non ha cambiato niente si può fare tranquilla ok ok pu 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 apple watch serie 2 apple watch serie 3 possono essere usati durante l'attività in acque poco profonde ad esempio per nuotare in piscina o al mare ed è verissimo quello che scrivi Marco è vero perché l'hai copiato dal sito però però e se tu sai che il cloro e il sale rovinano quella cosa lì cioè perché poi dopo non non mi garantisci cioè come faccio io non ci posso andare in piscina perché so che presto o tardi mi si fotte io ho il computer che va sott'acqua io devo sapere tutto nana devi mandarmi tutte delle io voglio sapere tutto di questo computer che va sott'acqua mandami una foto di te sott'acqua col computer ma guarda sai che l'ho già trovato qua l'affare devi mandarmi tu che progetti voglio vedere autocad che funziona come funziona questo computer che va sott'acqua ma se sciacquare dopo con acqua dolce dici vabbè mi fido live dal fondo piscina ma subito ma scherziamo per quanto riguarda la tua domanda porco schifo aspetta eh arrivo arrivo allora mi porta in giro lui adesso sono il suo re aia che male vedo nulla comunque per quanto riguarda il consiglio che posso dati uno dovuto all'esperienza di un amico con apple watch 2 basta sciacquarlo con acqua più o meno potabile rubinetto va bene no no vabbè ma ci credo però la lunga anche cioè tu lo sciacqui sempre però il suo bagno dove non doveva teoricamente se l'ha fatto lo stesso non vedo niente va bene perché cazzo non mi sono fatto una torcia guarda sono proprio stupido fortuna qui che gli anieni hanno pensato a tutto hanno messo un po' di luci quelli che compaiono dopo mezz'ora ste luci però ci sono quanto meno come dark souls eh lo so che mi serve la torcia la faremo la faremo perché non avevo batteria da buttare cado cado sto cadendo sto scendendo molto velocemente sono caduto mancano 19 minuti al rendezvous che paura è già ok grazie è un infarto in corso scusami flex stavo morendo di infarto ti conviene usare il siglide come torcia no non lo voglio fare assolutamente non lo voglio fare il siglide è troppo preziosa la sua batteria non la voglio usare grazie a papatrollo sono tre anni che seguo te il termo e carime finalmente mi sono deciso di donare per la prima volta ci risentiamo fra quattro anni sono povero ingegnere grazie mille povero ingegnere e tanti auguri allora noi prendiamo la nostra tavoletta shake e la infiliamo però me ne servono altre otto se non sbaglio per esplorare del tutto vediamo se ti vuoi cazzo solo lunghe passi ok non posso però mi scatta veramente mare ah va bene il sedimento il problema perfetto grazie attenti attenti ok oh 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 un cubo verde mio il cubo ai coglioni comunque vi stavo dicendo che stasera si festeggia la festa della donna in maniera particolare infatti ho scoperto che su twitch tutti stanno streamando lo stesso gioco da ieri io l'ho scoperto ieri per puro caso e questo gioco qui è praticamente un simulatore di appuntamenti quando c'è sentimento non c'è mai pentimento oh no 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 quindi stasera impareremo come si conquistano le belle donne ragazzi a te ho verte dating qualcosa si sarà una merda molto probabilmente però è un gioco interattivo con i video dopo che ne volevo fare uno ho detto ma si proviamo costato 9 euro e pesa più di 10 giga quindi boh grazie a te ho verte no femminazi ha 60 anni Gabriele controllo del campo di forza questo qui come funziona cosa ne sai poi tu che questo qui è il controllo del campo di forza perdonami devo dare una botta no non lo so ok questo qui è il mega parcheggione per il sottomarino che non abbiamo ancora e se è inguidabile come l'altra volta tante care cose a me quindi posso venire scaricato da una donna anche in un videogioco a quanto pare si è pesa 10 giga perché appunto è tutto sono tutti filmati sono tutti video pre-registrati ovviamente da degli attori dove in base alle tue scelte cambia la storia e se per una volta cavalchiamo anche noi la vena della moda il ritardo di un giorno non è un problema dai vediamo un po' di che si tratta poi al massimo fa cagare lo chiudiamo su che serve sta stanza cazzo ah forse è un portale questo qui è un portale che va attivato si ok si 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 ho capito si va messo nell'altra isola attivato il portale mi rimembro mi rimembro o forse in questa stessa isola va bene non mi ricordo comunque mi ricordo che c'è un portale ficcanza fucile alieno devo averlo mi serve adesso che poi ho messo lì in un angolo a caso manco me ne ero reso conto un altro po' non lo sappiamo Luca non lo sappiamo ok qua ce n'è una che però posso togliere cos'è questo? non me lo dice che cos'è questo però aspetta forse lo posso metterti sotto nel controllo del campo di forza che avevo visto prima o forse si è semplicemente spento quello del fucile però che scatti subnautica no che non si è spento ok di qua era credo non mi ricordo niente qui vai controllo il campo di forza no non va messo anche questo controllo come lo mette lì? ah come l'ho detto? eh misteri 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 si però boh non so non so come fare aspetta che intanto salviamo per sicurezza perché sta andando un po' a culo e soprattutto tra 13 minuti parte il rendezvous quindi vorrei anche uscire da questa situazione di chiusura posso notare anche che siamo 80 metri sotto livello cazzo qui c'è un'altra roba eh vabbè ma questo qui è destiny è chiaramente destiny è uno degli spettri guarda dai è destiny tantissimo ragazzi è destiny cosa stiamo vedendo eh dai 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 ah già è vero brava Isa me l'ero già dimenticato e oltre le solite live oggi se ci arrivo vivo scusami qui se non ricordo male c'era il testo per vedere se è un infetto o meno stasera dicevo oltre al normale live quindi termosifoni io alle 23 ci sarà il direct della nintendo e lo guarderemo assieme che palle che esce il puntone ah aia ma non farmelo vedere stronzo dai rimugina rimugina fammi sapere la situazione dice e vai siamo in un pianeta in quarantena io sono infetto sarete felici di essere miei amici no non ti tocco più quindi il nostro scopo è disinfettarci ok no stasera non si continua con pokemon stasera ve l'ho detto voglio fare il gioco degli appuntamenti anche perché se no troppi termos ultimamente il canale mio non voglio esagerare con loro ci ci collaboro volentieri facciamo le cose insieme però i canali devono rimanere separati esattamente come io non dovrei essere sempre da loro comprendete è chiuso o aperto qua aperto bene quindi ci stiamo regolando io non vado troppo da loro loro non vengono troppo da me poi dopo capita perché c'è magari quel gioco quella cosa e si finisce sempre a stare assieme però però questa sera però questa sera alle 23 ci saranno marca sicuro moro non lo so moro forse 10 minuti sono già arrivato però sono sbrigato troppo mi mangio in decomposizione però se la mangio niente mi ha solo inculato affanculo a qui devo arrivare 10 minuti vediamo quando c'è sentimento non c'è mai pentimento ma che notizie su Labo vuoi io spero proprio di no se fanno un direct di 30 minuti stasera di Labo mi uccido perché hanno già detto tutto quello che c'era da dire e tutto il resto è chi se ne frega hanno detto tutto hanno fatto anche il workshop c'è stato pure Firenze al workshop ha fatto un articolo ci hanno scritto anche un sacco di altri giornalisti e direi che hanno fatto ben troppo per Labo hanno fatto vedere tutto non c'è bisogno di vedere niente basta basta Labo l'idea carina l'hanno fatto vedere fine basta se fanno vedere Labo stasera vaffanculo nintendo merda quindi allora come dicevano giustamente altri è poco probabile che annuncino Animal Crossing così con un direct con poco hype però sarebbe bello sarebbe bello una volta ogni tanto che senza creare hype zitto zitto niente niente mi butti fuori una bella bomba un po' così te te hai visto hai visto sarebbe bello secondo me giusto per stupire un po' le persone oh guarda cosa ho trovato poi chiaramente non è detto non è detto però mi piacerebbe molto ma no Gabriel ma perché dovremmo parlare di Labo hanno fatto veramente troppo cioè basta hanno fatto veramente vedere tutto tra poco tra poco me l'hanno portato a casa me l'hanno fatto provare hanno fatto veramente tutto oh ecco qua riserviamo perché cioè di Labo cos'altro mi dovrebbero dire mi hanno fatto vedere tutte le cose che posso fare tutti gli oggetti che posso creare tutte le cose che posso programmare mi hanno fatto vedere anche tutti quanti i vari test i video con i bambini e tutto quanto cazzo se mi fanno vedere ancora Labo che due coglioni ho già visto tutto quindi spero di no però potrei sbagliare sotto avete fare questo ah giusto posso mutarmi hai visto dove sono sono 2000 metri dal rendezvous creo di essere nell'altra isola vuol dire che le pubblicità che vedi una volta sola gatto è ovvio che per pubblicità faranno vedere altro e non tutti hanno visto tutto adesso bisogna vedere perché secondo me fare un direct di nuovo solo lì per me sarà una allora detto da realista e non da sognatore sarà una carrellata di prossime uscite in generale non solo di Labo ma di tutto quanto se fanno vedere troppo Labo secondo me c'è poco visto che hanno già comunque investito un sacco a portare influencer a portare giornalisti si è visto si è visto già un bel po' di Labo non è una una cosa cioè è bello che ho sdoganato Labo ormai quindi secondo me avrebbe poco senso spingere ancora di più questa sera però cosa ne so io a me girerebbero sicuramente le balle perché preferirei qualcosa di nuovo qualche annuncio anche minore qualcosa di non so non so neanche io che cazzo vorrei vedere stasera cioè lo so vorrei vedere Animal Crossing però sono delle pretese sicuramente fuori scala le mie Kingdom Hearts 3 su Switch solo quello però qualcosa di faremo le poche Fire Emblem e Pokémon potrebbero dire il titolo di Pokémon e basta solo il titolo anche Kirby esatto cazzo nessuno vuole comprare Gabrielle porca vacca secondo me è bello Kirby anche per le live potrebbe venire bello divertente però in co-op da solo secondo me è una merda mi piacerebbe tanto giocare in co-op Kirby però servirebbe 3-4 persone mi rinfilo qui intanto potremmo provarlo in due allora Gabriel o forse sai cosa parlano dell'abbonamento di Nintendo quello simile al Plus o al Gold è possibile potrebbero parlare tranquillamente di quello non ci avevo pensato perché adesso a breve in realtà doveva essere già attivo adesso no? ricordo male del litio era lì che faccio la raccolgo a questo punto vediamo non vedo niente non vedo che consumo la batteria vaffanculo o forse no vediamo se non mi consumo la batteria è fatta però che cacchio non sembra sì me la consumo che cazzo mi sto imbucando io però se sono buco di prima stai a vedere che adesso arrivo tardi sono arrivato mezz'ora prima a settembre il golden io intendo era coso diamante fanculo ho trovato il diamante uh ancora buona adesso devo sbrigarmi cazzo devo uscire da questo posto cercheremo meglio con la torcia in mano magari ok ho l'uscita buona no no di lì ok salva per carità salva corro corro un'altra tavoletta sceca qui no quante ne ho trovate me ne servirà due non lo so vabbè mi sbricheggio mi sbricheggio aaa in acqua salva salva vediamo un po' eh Luca in teoria si dovrebbe essere una nave che viene a prendermi però visto che il gioco non può finire in questa maniera qui credo che si schianti rovinosamente però sai piacerebbe vedere cosa succede siamo qua mancano due minuti vediamo non ho sola cura me la tengo per dopo e attendiamo non spoilerare cosa non lo so non l'ho visto è la prima volta che mi capita io non lo so non lo so non lo so assolutamente non lo so ho veramente paura di morirci stronzo lì già 47 metri per una cosa che magari si schianta fa il culo ci vedo bene qui ci vedo bene un po' un po' un po' un po' salviamo di nuovo così magari dopo abbiamo il tempo per metterci in salvo eh vedi brainless tu hai spoilerato perché io ho detto una cosa se tu mi confermi la cosa che ho detto quello è spoiler stupido e adesso so già cosa aspettarmi porca di una miseria ma perché ci mancava un minuto non potevi star zitto ma che cazzo poi perché era una cagata me l'avrei immaginato da solo però da dov'è oh madonna ah questo qui è un cannone quindi ah quindi sta arrivando la nave e gli spara probabilmente è lo stesso motivo per cui la nostra nave è caduta è interessante questa cosa qui 3 2 1 se potrebbe essere qui 3 2 1 sopravvissuto io non ti vedo però si ah ecco lì aia aia ma neanche un pezzettino mi rimane da raccogliere si lì vedi c'è un pezzettino lì voglio raccogliere quel pezzettino lì vabbè l'avevamo capito sono dispiaciuto sono dispiaciuto ho fatto tutto automatico eh questa è un po' di cose fighissime proviamo ad andare a vedere lì se ci sono dei pezzi non credo però andiamo a vedere bevo un po' d'acqua no anche perchè non lasciano più fumo quindi non penso proprio ah ora si trova roba in mare da raccogliere bene questo mi mi interessa saperlo confermatemelo per cortesia devo andare fino a lì o non ci sono anzi forse ci sono mostri brutti come eh probabilmente si plax però non so cazzo ma si continua a girare non lo faceva prima ma arriva qualcos'altro si è attivato ah no si è rimesso in posizione ok e cazzo vado l'ho esplorata prima ma si ma si ok c'è una scega c'è un portale il cannone sta facendo balletto perchè ha fatto centro bene andiamo all'altra capsula a questo punto di lì vediamo un po' che accade anche i mod erano ma vai tranquillo buglione ti hanno sistemato l'ho dispiaciuto lo smagli posso girare la testa no per carità per carità sento versi non avrei dovuto guardare che bello questo animale però fighissimo che mi attacchi un pippistrello ehi mi attacca si mi attacca mi attacca mi attacca mi attacca mi attacca che dolore che dolore sto vorrendo aiuto cazzo ma è distantissima la cosa vado fuori ok aspetto che facciamo così la mia ultima acqua a questo punto farei anche un save quante ore di gioco a tre e mezzo un po' di più un po' di più tra un quarto d'ora sono quattro no no non sono ancora andato sull'aurora perché mi serviva il diamante per fare il taglierino che adesso abbiamo trovato non lo so quanto dovrebbe durare cazzo qua è lunga ancora contiene i resti di un passeggero ad alta priorità e lo capivo però devo respirare dopo un po' quindi esatto ma in the gap ma va a cagliare no no carica batteri purtroppo ancora non non ho trovato tutte quante le componenti sarebbe la cosa più utile da avere in questo momento ok vediamo se ci riusciamo così la vedo molto bassa 175 metri però magari una toccata e fuga ok dai 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 ce la facciamo ce la facciamo su e giù velocemente vai su e giù velocemente non si entra in nessuna parte ecco qui il pda e basta no non mi dire tutto qui solo della lore cazzo non vedo nient'altro qui però mi pareva di ricordare che c'hanno anche pezzi di del del robottone qua in questa zona qui vabbè no no vorrei sapere dimmi pure in quanto l'hai finito Budan sono interessato a saperlo mi interessa sapere quanto ci hai messo poi dopo vabbè in live ci si mette sempre di più a fare un po' tutto quindi si si ci sono veicoli per stare sotto acqua di più infatti adesso inizieremo a vedere se riusciamo a costruire un paio uno in realtà anche un paio 20 ore tirando bello dritto a finire la trama ho capito vabbè una buona una buona durata adesso vediamo poi nel caso so che se ho bisogno di aiuto c'è sempre la chat che mi può dare una mano quindi però direi che ce la stiamo comunque cavando cose da fare ne abbiamo e abbiamo le mani in pasta diciamo grazie fratto 40 facendo le cose con calma dice redmash si è messi bene no non siamo al 20% perché non sappiamo quanto abbiamo fatto di trama ti immagini se non c'è uno smash per switch sarebbe bello farebbe piacere poi non ci giocherei esattamente come non ho giocato quello per 3ds che ho comprato con marco poi alla fine non ci abbiamo mai giocato una volta però non mi dispiacerebbe adesso seguendo gli indizi delle capsule dei messaggi alla radio non ti perdi mai no ma infatti ma non è questione di perdersi è questione di trovare materiale per creare i vari macchinari subacquei che immagino tu sia obbligato a crearti anche il mega sottomarino per finire il gioco oh siamo già arrivati a casa grazie plax ma allora io qui te non tu fai l'altro mi stavo per dimenticare la sub che figura grazie mille sono contento che non te la sei dimenticata che fastidio qua che si sente giocciare ok va a vedere eh il caricatore mi sarebbe estremamente utile vabbè chi se ne ha preso cos'è fioreria da parete ok smaghi ok allora aspetta un attimo che vado di sopra quanto mi piacerebbe finire questo oh davo veramente fastidio non averlo finito quel lavoro lì non c'è stato ok un altro messaggio guarda che intanto tolgo oh 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 grazie R non la vedo bene non la vedo bene io la fioriera lo farei darebbe un tocco più vivace all'ambiente ah vedi sono contento grazie signorina adesso si che mi sento in forma cazzo allora mi serviva piattaforma mobile per veicoli il lingotto di titanio mi serve il lingotto di titanio che è no aspetta ma il titanio basta avere 10 di titanio cazzo ci vuole cazzo ci vuole dobbiamo quanto manca 8 minuti ce la facciamo luda luca perdonami non luda sono scemo salve signor gatto ultimo live in live che vedrò per un po' vedo mani di finita dal canale figo visto che vado a cercare lavoro mi auguro buona fortuna tantissimi auguri cazzo tantissimi auguri facci sapere mi raccomando la fortuna spero che la possa riceverla anche in canale bacio ambiguo grazie tanti auguri mi raccomando facci sapere bello il canale ho dei parenti lì non so dove più perché sono morti alcuni figli forse non lo so però no non ho fatto riciclatore di co2 effettivamente e in tasca ho fin troppa roba buona per morire ora è che ho scambiato il titanio con il coso finora col piombo e allora non mi sono più messo a fare questo lavoro qui che porca vacca invece è facilissimo da fare no oh dente cazzo le stanno droppando un sacco una volta era difficilissimo mi ricordo sarebbe bello magari fare la la sfera quella lì osservatorio tutta fica col vetro tutto smaldato serve tantissimo lo so lo so e lo faremo lo faremo non abbiamo fretta per ora una roba alla volta sto trovando talmente tanto rame non sapere più cosa farmene e non era mai capitato uno due tre quattro cinque no vediamo se ne ho altri da altre parti non credo qui no infatti ok me ne manca uno cazzo dai che sfiga scusami stasera paffina l'albero ormai è uscito dai no adesso quello lo devo fare per principio un pezzo di titanio mi serve uno non è che chiedo chissà che un titanio che è la cosa più facile da trovare nel gioco porca miseria niente oh rottami buona questo cinque minuti con cosa ho fertilizzato l'albero non lo so non me l'ha detto e non me lo voglio neanche sapere oh play buona allora via questo qui uno di questi mi serviva sono sicuro poi pezzo di titanite ok lingotto di titanio poi cos'è che serviva qui lubrificante una cella di energia la cella di energia si fa si fa come si fa questa cella di energia con due batterie e la gomma siliconata ci abbiamo tutto una batteria due batterie e una gomma siliconata guarda che magari troppo giù anche le cose importanti ecco che così non faccia la figura vediamo ah cazzo vabbè metteremo di sotto alè l'abbiamo fatto sono veramente bravissimo olè lo droppiamo ah eccola fatto oh ecco qui come è che si spostava raccoglie la voglio mettere un pelo più in qua perché è un po' in mezzo alle palle che è successo arrabbicati oh lì vediamo un attimino cosa ci serve lingotto di titanio si fa cella di energia si fa vetro ce l'ho piombo puttana va bene allora l'obiettivo di domani sarà questo ce l'abbiamo già perfetto salva abbiamo finito pure in anticipo vorrei far notare che sono veramente un fico fico eschi eschi ah no giusto che adesso posso fare così mi dimentico mi dimentico che si può fare questo lavoro qui che bello oddio cosa sta succedendo roba allora io vi ride i termosifoni la parola del giorno è dove sono Mark e Moro qui dovete scrivere tu dovete chiedere tutti i termosifoni dove sono Mark e Moro punto di domanda grazie a Red Panda Online all'ultimissimo proprio l'ultimissimo grazie mille a stasera bella raga si la live di Nintendo qui su Twitch e non grazie mille